Koana House Chalk La Psicica House di Radio Studio 1 20 dischi, i più belli, i più gettonati Io sono Domi, c'è una house chalk I ritmi I ritmi più cool I ritmi più cool Just for you, baby Where's the music becomes nova ragazzi Su, 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 tutte le mani per Rossella La musica più bella, la gente più bella Sabato, 21 Giugno 2008 Alla consola, Danny DJ E' sparito, dov'è? Ogni salto sparisce E al centro della pista Tutti gli amici E le amiche di Rossella Ci siete? Ragazzi, se ci siete Le mani vanno verso il cielo Vanno verso il cielo Vanno verso il cielo Su, le mani, solamente per Rossella E' sparito, se ci siete Uuuhh Uuuhh I live the house Stanti, Stanti, a lui Rossella A me sordana E a voi unico con il mercato E a voi che sia Io sono sicuro, a voi stai Se cansegni un polizio lo posso stare durante l'ora ragazzi mi portate le mani verso il cielo Frivile questo video probabilmente va a fare su Youtube lo posso mettere lo posso mettere e automizzate quindi musica 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 Ogni tanto, ho aperto di vista, perché la musica ragazzi non è tutta uguale, quando la musica chiama, la musica risponde, musica! Grazie!